De Gustibus Abbiamo oggi la notte d'artista tra la terra e il mare parliamo di questa tre giorni unica che andremo a vivere a Sant'Agnello da domani 28 agosto insieme anche ovviamente al 29 e al 30 con una tre giorni per diversificare anche tutte le cose che Sant'Agnello può offrire così come abbiamo imparato ad ascoltare anche dalla voce dell'assessore al turismo Giuseppe Gargiulo, ben ritrovato su Radio Amore Napoli Buonasera, buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori E allora assessore manca davvero poco all'inaugurazione di queste notti d'artista tra la terra e il mare come stanno procedendo gli ultimi preparativi? Sì effettivamente siamo un po' stremati perché chiaramente l'impegno è stato tanto ma siamo ben consci che l'impegno profuso produrrà sicuramente un ottimo risultato tutto è pronto come dicevo nelle passate interviste Sant'Agnello ha messo il vestito più bello che può offrire a tutti quelli che chiaramente ci verranno a trovare che verranno a godersi questa tre giorni, questa full immersion appunto tra musica, mare, cultura, spettacolo ed enogastronomia di eccellenza abbiamo lavorato tanto, hanno lavorato tanto insieme a noi tutti quelli che ci accompagnano, tutti i partner colgo l'occasione anche di ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato dagli albergatori, ai ristoratori, dagli operatori turistici, dalle aziende, dagli sponsor tecnici dalle società che hanno organizzato gli eventi, gli spettacoli, la promozione, la comunicazione tutti quelli che ci sono stati vicino, veramente è stato un team, una squadra veramente eccellente veramente una squadra che ha lavorato bene e i risultati si sono visti ma soprattutto mi corre l'obbligo di ringraziare voi di Radio Amore Napoli che ci avete tanto supportato, che ci avete tanto spinto e ci avete tanto aiutato a promuovere questa splendida iniziativa Ma a noi fa solo piacere perché quando ci sono delle cose così belle è che poi come stava ricordando anche lei coinvolge comunque il lavoro di tante persone che magari noi non vediamo che lavorano dietro le quinte ma davvero c'è tanto impegno, tanta passione e tanto amore quindi noi che siamo sempre molto attenti alle cose belle che la nostra terra può offrire non potevamo essere assenti in questa tre giorni e ovviamente approfitto anch'io per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte e soprattutto volevo chiederle se c'erano dei consigli che possiamo dare magari a qualcuno che è all'ascolto adesso che sta decidendo di venire a Sant'Agnello nei prossimi giorni ci sono qualche indicazione in più che possiamo dare? Il mio consiglio è quello di chiamare subito le strutture ricettive a chi vuole passare un bel weekend qui in Venezuelino a Sant'Agnello e prenotarsi perché già stamattina mi arrivava notizia che gli alberghi e le strutture ricettive stanno andando verso il pienone quindi chiunque vuole venire si deve affrettare a prenotare per chi vuole rimanere qualche giorno in Pimpia di Isola Sorrentina qui a Sant'Agnello quindi consiglio di anticiparsi un pochino per le prenotazioni anche perché le prenotazioni che stanno arrivando sono tante ma la cosa che mi ha fatto molto molto piacere e che mi ha riempito il cuore di gioia è che da tutta la campagna stanno pervenendo all'ufficio turismo del comune di Sant'Agnello ci sono tantissime richieste di persone che si stanno informando sull'evento quindi grazie anche alla vostra comunicazione tutta la campagna si sta mobilitando per venire a visitare Sant'Agnello ma soprattutto a passare tre giorni insieme a noi noi iniziamo domani con una bellissima escursione a mare che è una mini crociera ma anche di carattere didattico culturale perché avremo a bordo le esperte guide dell'area marina protetta Punta Campanella che spiegheranno le finalità dell'area marina protetta, la flora, la fauna e avremo una deroga speciale ad entrare per una sola volta nell'area marina protetta appunto alla Baia di Eranto, la splendida Baia di Eranto, la Baia delle Sirene dove si vedrà un mare splendido, un mare verde, un mare cristallino ma soprattutto ci sarà anche la possibilità di vedere la flora e la fauna che è veramente spettacolare. Quindi con le guide dell'area marina protetta arriveremo alla Baia di Eranto, dopodiché andremo all'isola dei Galli le famose isole dei Galli che furono di proprietà del mitico Nuraest e poi di lì andremo ai faraglioni a Capri, costeggeremo l'isola di Capri il faro di Punta Sena, arriveremo a Marina Piccola, ci sarà un Capri by Night perché chi vuole potrà anche scendere per una sosta sull'isola di Capri e poi rientro nel porto di Sorrento per arrivare poi a Sant'Agnello Insomma già solo la giornata di domani, quella del 28 agosto è fantastica insomma perché poi fa fare una full immersion nel mare di Sant'Agnello e della penisola sorrentina per ammirare veramente le bellezze che ci sono Anche di più che comunque durante tutte e tre le sere per chi resterà qui a Sant'Agnello ci sarà un'esposizione di prodotti tipici, un'esposizione di artigianato, di antiquariato sempre sul bel vedere della Marinella quindi per chi vorrà farsi anche una bella passeggiata sulla nostra bellissima terrazza che si affaccia sul Corfo avrà anche possibilità di godere di una bella esposizione appunto di prodotti locali, di artigianato e di collezionismo e di antiquariato Perfetto, allora anche io non vedo l'ora di venire lì a Sant'Agnello per vivere questa meravigliosa tre giorni nel frattempo ringrazio lei, l'assessore al turismo Giuseppe Gargiulo che ci dà sempre delle informazioni precisissime e fondamentali non solo per vivere questi tre giorni Volevo ancora aggiungere che nei prossimi collegamenti parleranno appunto degli esperti per quanto riguarda la gita di domani e poi anche un'azienda di prodotti tipici locali un'azienda a chilometro zero che produce prodotti a chilometro zero che spiegheranno anche la finalità di questa nostra eccellenza gastronomica che abbiamo voluto mettere in essere perché domenica sera ci saranno gli chef stellati che cuciranno pietanze veramente eccezionali un connubio tra la terra e il mare i prodotti della nostra terra, della collina di Sant'Agnello e i prodotti del mare del nostro colpo di Napoli quindi sarà una cosa spettacolare Perfetto, da non perdere assolutamente le notti d'artista tra la terra e il mare 28, 29, 30 agosto grazie all'assessore al turismo Giuseppe Gargiulo grazie a lei, buona serata allora vi aspettiamo tutti a Sant'Agnello grazie, buona serata a voi e aspettiamo anche tutti gli ascoltatori di Radio Amore Napoli a Sant'Agnello 28, 29 e 30 agosto